La Virtus Teramo e il piano della lente potranno tornare a giocare regolarmente le partite di campionato al campo dell'Acquaviva previa realizzazione di alcuni lavori che sono stati indicati dal questore. Quanto è emerso proprio stamattina nel corso di un incontro tra i due presidenti e il questore di Teramo? E i lavori si faranno e verranno effettuati proprio dai presidenti? Sì, diciamo che non è il nostro auspicio, non andiamo cercando di fare i lavori, però diciamo che sono fattibili, sono dei lavori modesti, molto probabilmente sono delle cartellonistiche per indicare il settore ospite, i settori locali e dividere la recinzione attuale con una rete per avere distinte le due diverse tifoserie. Il questore questa mattina ci ha rassicurato molto e quindi credo che il Comune non ha nessuna difficoltà a questo punto per poter far sì che il campo, che tra l'altro dove hanno investito anche tanti soldi di recente con un bel manto erboso sintetico, credo che la situazione si possa tranquillamente risolvere. Noi diciamo ad ulteriore riprova che vogliamo giocare su quel campo e che ci mettiamo a disposizione anche con magari i tempi burocratici dell'amministrazione che sono più lunghi, ci diciamo già da subito disponibili anche pubblicamente, quindi con un'intervista, a sostenere gli eventuali costi che ne derivano per fare questi lavori che sono i minimi necessari per poter garantire l'incolumità. E' logico che tutti i campi sportivi di Teramo, è giusto che questo venga detto, giocano con deroghe del Comune. Cioè diciamo che ufficialmente al di là del Bonolis, che non credo che sia un campo di proprietà comunale, il Comune di Teramo non ha un impianto dove si può giocare senza nessuna prescrizione. E quindi tornerebbe ad essere un campo simile al Dino Besso di San Nicolò o ai tanti altri che occupano il nostro territorio. E la tempistica quale sarebbe? Le prossime partite di campionato, dove le giocate? Beh, questo ancora non lo sappiamo. Noi speriamo praticamente che, siccome sono dei lavori relativamente brevi, stretto giro, speriamo praticamente di poterli fare dietro accordo del Comune, praticamente a stretto giro. Noi abbiamo richiesto con nota a PEC, subito, entro un'ora dal ricevimento della loro, di indicarci un elenco dei campi disponibili, perché non è che possiamo scegliere un campo che poi non è idoneo. Quindi ad oggi, purtroppo, ci sono delle incompenze perché ci stanno chiamando, perché il Comune ha avuto anche la brillante idea di inviare questa nota alla Federazione. Giustamente la Federazione ci dice che per regolamento, entro 48 ore prima, dobbiamo comunicare eventualmente il cambio del campo. E noi quindi a questo momento c'è il forte rischio che domenica molto probabilmente non possiamo giocare, perché non abbiamo a disposizione al momento nessuna garanzia di nessun campo. Stesso discorso per voi? Diciamo che noi abbiamo una settimana in più di riflessione, perché praticamente giochiamo domenica prossima, giochiamo fuori, quindi dopo torneremo in casa a domenica successiva. Però diciamo che siamo nelle stesse condizioni della Virtus, non è che cambi molto. Dunque la speranza a questo punto, visto che basterebbe fare questi lavori, qual è? Che il Comune si adoperasse subito a farli, se non riesce per problemi burocratici o magari per il riperimento immediato di un'azienda, noi ci rendiamo disponibili, essendo tra l'altro anche del settore sia io che il Presidente del Piano della Lente, a farli e ci terrei a sottolineare in modo assolutamente gratuito.